Amici del vero milanista, bentornati all'appuntamento con Tutto Milan. Ieri sera, ennesimo fallimento dei rossonieri al San Paolo, usciti sconfitti per 3-0 dal Napoli, dopo un intero match giocato con un uomo in meno per l'espulsione di De Sciglio dopo 40 secondi. Prestazione superba di Diego Lopez, che ha anche parato un rigore di Higuain. Milan, anche sfortunato con Buonaventura nella prima frazione, il cui colpo di testa si è stampato sul palo con il risultato fermo sullo 0-0, poi il rossoniero sul Cassati in 6 minuti. Al triplice fischio di Mazzoleni, l'adio rossoniero Adriano Gagliani si è prontamente recato nello spogliatoio per tenere a colloquio squadra e allenatore. Il Milan ha successivamente fatto sapere che la posizione di Inzaghi, a questo punto della stagione, non è a rischio da qui fino a giugno, a prescindere da quelli che saranno i risultati che saranno conseguiti. Lo stesso Inzaghi nel post partita ha dichiarato con toni di rassegnazione. Quest'anno ce ne capitano di tutti i colori. Ho un contratto. Per me il Milan è sempre il Milan. Futuro incerto anche per Mattia Destro. Messo un po' ai margini della Rosa è sempre più in crisi in zona gol. Per lui, ieri al San Paolo, pochissimi palloni giocabili e zero tiri in porta in meno di un'ora in campo. Al momento della sostituzione, l'ex Roma, che ha deluso tutti, ha domandato più volte il perché della sostituzione a Mauro Tassotti, dopo l'inutile tentativo di incrociare lo sguardo di un Inzaghi abbattuto per il risultato. Il riscatto ormai quasi certamente non verrà effettuato dal club di Vialdo Rossi. E' terminata infine l'avventura a Milano per il brocche tailandese B. Taechabal. Ieri mattina incontro ad Arcore tra Berlusconi e la cordata cinese, poi smentito dallo stesso presidente con una nota ansa. C'è solo Mr. B per il futuro societario rosso-nero. Taechabal, appena atterrato a Bangkok, ha parlato nuovamente da membro del club. Ultimiamo i dettagli e dentro un mese chiudiamo l'affare. Poi lavoreremo per riportare il Milan a vincere. Sabato, vigilia di Napoli-Milan e giornata epocale per il club rosso-nero. A Milanello, a margine della conferenza stampa di Mr. Inzaghi, il nostro direttore Luca Rosi ha intervistato sull'argomento l'avvocato Paolo Vinci, apprezzato milanologo, opinionista e esperto conoscitore delle vincende di casa Milan. Non poteva mancare ovviamente un commento sull'incontro avvenuto nella mattinata tra Silvio Berlusconi e il broker tailandese B.T. Achebol, il cui ingresso concreto in società è solo questione di dettagli. Andiamo a vedere quindi un passaggio dell'intervista. Silvio Berlusconi, 29 anni dopo, dimostra ancora di avere gli stimoli giusti e di avere la volontà effettiva e concreta di mantenere il Milan. Rinuncia a 500 milioni per una quota minoritaria per il momento. vuole valutare, Melius reperpensa, vuole pensarsi a fondo ancora di più, blocca B.Touchball e con lui fa un patto forte d'amore che riguarda un Milano grande che deve tornare a livello internazionale in modo forte, come pregiudiziale tutta per qualunque votazione. È una scelta d'amore di altri tempi, va dato atto a Silvio Berlusconi di avere grandissimi valori. L'intervista integrale all'Avvocato Paolo Vinci sarà disponibile domani sulle pagine del vero milanista. Grazie per averci seguito. Tutto Milan torna invece mercoledì. Grazie. 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 Grazie.